Quello è lo stadio per mando Maradona perché oggi siamo andati allo stadio a vedere Napoli-Sassuolo Questo è il post partita, 2-0 per noi, altri 3 punti dopo quelli contro il Frosinone Ha segnato Simen sul rigore, il rigore è bellissimo Lui non li segna spesso, stavolta l'ha fatto veramente bello Secondo gol del raddoppio di Lorenzo che poi ha chiuso la partita Di Lorenzo ragazzi il miglior persino, uno dei migliori in Europa e sicuramente il miglior in Serie A Un fenomeno, niente oggi Juan Jesus mi è piaciuto particolarmente in difesa Poi vabbè di Lorenzo e Olivera perfetti Rachmani lo botta Anghissà e Ziegischi, vederli giocare dal vivo è ancora meglio, uno spettacolo Simen un mostro, Fara è entrato dopo perché ha giocato Raspadori che ha fatto fatica, ha sbagliato il rigore Si è mangiato qualche gol e l'ho anche rischiato di fare diciamo Per il resto niente, vinciamo comunque 2-0 Cercherò di portarvi la reaction entro domani pomeriggio, domani sera E non ve la perdete perché sarà sicuramente una delle migliori se non la migliore del canale Perché è stata bellissima, non ho più la voce Spero di ritornarci ragazzi perché è stata un'esperienza da rifare E niente, forza Napoli, 6 punti E ci vediamo alla prossima contro la Lazio